Stefano era la ripartenza che immaginavi con un poker strabiliante che rievoca grandi camionieri del passato? Sicuramente vi aspettavo una grossa reazione da parte della scuola, ma a livello personale non mi potevo mai aspettare quattro gol. Sono felice per me, ma soprattutto per la scuola, perché dopo domenica, dopo il dispiacere contro Renato Curi, meritavamo questo successo. Le reti pregevoli sembrava oggi che ogni volta che toccassi la palla andasse proprio all'angolino giusto. Sì, domenica scorsa non l'ho toccata quasi mai, questa domenica come la toccavo la palla entrava, quindi questo è il calcio, ti dà e ti toglie, però devi essere sempre concentrato e determinato durante la settimana e poi la domenica è lo specchio del lamento. Sì, non mi interessa, non lo guardo, mi interessa solo che la scuola vinca, faccia bene, oggi ci serve la reazione, la reazione è arrivata e adesso ci aspetta la Coppa mercoledì e pensiamo andare a fare risultato a vostro.